L'ospedale mi procura tutto quello di cui ho bisogno, pennelli, tavolozza, colori, ma la cosa più importante è la fisioterapia, tutti i giorni, nel resto del tempo dipingo. Mespen è un cristiano etiope, un incidente gli ha causato gravi problemi alle gambe. Da otto anni il sente Luis Hospital di Gerusalemme è diventata la sua casa, il personale sanitario e la sua famiglia, insieme alle suori di San Giuseppe dell'Apparizione. Sono state le prime a portare a Gerusalemme nel 1951 le cure palliative, le prime ad accogliere malati di AIDS. Sono a servizio di pazienti oncologici e cronici, di anziani rifugiati. Cristiani, musulmani ed ebrei curati senza distinzioni, perché davanti alla sofferenza e alla morte siamo tutti uguali. La cosa che mi piace di più qui è il fatto che ciascun paziente possa scegliere la terapia che preferisce. Ci sono meravigliosi dottori, infermieri e anche il cibo è molto buono. Una volta a settimana viene a trovarmi mia figlia. Non possiamo aggiungere giorni alla vita, ma possiamo aggiungere vita ai giorni, anche con il tuo aiuto. Basta un semplice giardino per rendere più lieve l'ultimo tratto di strada. Basta un semplice giardino per rendere più lieve l'ultimo tratto di strada.